ciao a tutti benvenuti o bentornati su my beauty fair e buona domenica anche il video di oggi è un video dedicato al make up era da un po che avevo da parte questo video che volevo filmare ho pensato che questo potesse essere il momento giusto perché sto vedendo insomma ultimamente da tutti i vostri commenti che tante mi state dicendo che vi state truccando molto poco e che comunque a causa della mascherina che dobbiamo sempre tenere addosso quando vi truccate prediligete sempre il trucco degli occhi rispetto al trucco di altre parti del viso allora ho pensato che questo potesse essere il momento giusto oggi voglio farvi vedere cinque ombretti che secondo me sono fenomenali per essere utilizzati da soli è stata se non sbaglio la youtuber australiana karima mckin mi che mi piace tantissimo ad aver filmato per prima questo video questa sorta di video che poi è diventato quasi un video tag il il titolo del video si chiama one and done eye shadow ovvero un ombretto che può essere utilizzato da solo per un look completo senza che ci sia bisogno per forza di utilizzare altri prodotti altri ombretti diversi sapete che io sono una fan dell'utilizzo di un unico ombretto su tutta la palpebra è una cosa che faccio spesso perché mi piace il risultato e anche perché ho sempre poco tempo e sono un pochettino pigra quindi per la vita di tutti i giorni un ombretto unico sfumato dappertutto mi piace tantissimo un look che mi piace moltissimo e quindi avevo proprio voglia di condividere con voi quelli che sono i miei ombretti preferiti per questo scopo ce ne sono tanti tantissimi di ombretti adatti a questo io oggi ne ho voluti menzionare soltanto 5 di categorie diverse ci sono prodotti in crema ci sono prodotti in polvere prodotti in stick prodotti in barattolino ci sono prodotti che secondo me sono fantastici per essere utilizzati tutti i giorni nella vita quotidiana altri un pochettino più particolari da usare per un'occasione speciale ma sono tutti ombretti che secondo me da soli rendono al loro meglio ne indosso uno anche in questo momento ho ricreato questo look che per me è praticamente il mio look della vita se così possiamo dirlo cioè proprio il mio look per antonomasia e ovviamente vi parlerò di questo ombretto tra poco e nulla direi che posso anche smetterla di chiacchierare di lasciarvi al video se ancora non l'avete fatto non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando qui sotto nell'info box e attivando la campanella per non perdere nessuno dei prossimi video e non dimenticate anche che vi aspetto sempre su instagram se ancora non mi seguite venite a trovarmi anche lì perché parliamo molto spesso di beauty anche in separata sede ho qui con me tutti gli ombretti che voglio mostrarvi una cosa importante che ci tengo a precisare è che questi sono quelli che dimostrerò sono tutti ombretti singoli sono ombretti acquistabili singolarmente non ho voluto scegliere o includere ombretti che si trovassero all'interno di una palette perché secondo me verrebbe meno il senso se voi fosse costrette nel caso che innamorasse di un ombretto che dimostro ad acquistare una palette insomma cascherebbe un po tutto il palco non avrebbe più senso parlare di un unico ombretto che da solo fa un intero make up c'è un ombretto che per me per i miei gusti rientrerebbe di diritto in questa categoria o al primo posto oppure molto in alto nella classifica purtroppo non posso includerlo perché è un ombretto che non esiste più che non è più in produzione si tratta del paint pot di mac nella tonalità indian wood ve lo faccio vedere qui è stupendo è un bronzo meraviglioso pazzesco purtroppo e vai a capire perché la maggior parte dei pen pot di mac sono fuori produzione sono rimaste alcune tonalità secondo me noiosine sono praticamente tutti neutri molto smorti non c'è niente secondo me di interessante e io in generale amo gli ombretti che abbiano un minimo di luminosità non sono una fan degli ombretti matt ecco e quindi non posso menzionarvelo perché non è più in produzione ma sappiate che indian wood di mac per me è uno degli ombretti migliori ombretti in crema migliori che esistano sia per quanto riguarda la formula sia per quanto riguarda la tonalità ma veniamo a noi il primo ombretto del quale vi voglio parlare ce l'ho qui contenuto all'interno di un quad che ho composto io ma lo voglio togliere per farvi apprezzare appieno il colore è il mio ombretto preferito della vita se dovessi scegliere un unico ombretto da utilizzare per tutta la vita non avrei dubbi e sceglierei lui si tratta dell'ombretto bronze di mac che per me è un colore spettacolare io sono un amante degli ombretti mac mi sono sempre piaciuti li utilizzerò li amerò sempre alcuni colori possono non avere una qualità eccelsa magari alcuni matto sono un po secchi però le tonalità luminose tipo bronze sono quelle che a me piacciono di più secondo me sono in assoluto le formule di ombretti meglio riuscite di mac e questo colore per me è perfetto tutto l'anno in tutte le stagioni senza senza nessuna eccezione è un bronzo stupendo sapete che io amo il bronzo non è assolutamente il primo ombretto bronzo che vedrete in questo video ma sono sicura che per voi non sia una sorpresa e nulla io ne vado ne vado matta colore di questo ombretto è un meraviglioso bronzo caldo ma non troppo caldo ma fino a un certo punto secondo me si adatta a un ventaglio di colorazioni di sottotoni rincarnati pazzesco questo è un ombretto che a me fa impazzire e secondo me applicato da solo su tutta la palpebra rende benissimo lo applico utilizzando un pennello di real technique trovate qui sotto linkati oltre agli ombretti anche tutti i pennelli che utilizzerò oggi e vado ad applicare il colore sulla mia palpebra questo è un ombretto che si sfuma praticamente da solo è pigmentato al punto giusto sapete che io lo dico spesso non amo gli ombretti super pigmentati perché inevitabilmente risultano anche un pochettino più difficili da lavorare richiedono qualche sforzo qualche attenzione in più io ho finito l'ombretto è applicato e sfumato alla perfezione e io adesso ho ricreato un look in 20 secondi 30 forse a farla grande verso un po di tempo a chiacchierare e io sono innamorata persa di questo ombretto avete una carnagione tipo la mia è più scuro ovviamente ma non tanto è un ombretto di intensità media e questa è l'intensità di ombretti che io preferisco per la vita di tutti i giorni si può ovviamente intensificare un po con una con una matita sfumata all'angolo esterno con un ombretto un pochettino più scuro ma mai così da solo piace da matti a dei riflessi caldi molto molto belli ma come dicevo prima è un ombretto che dona a tante tante carnagioni diverse stupendo il secondo ombretto che voglio menzionare invece è un ombretto in crema ed è uno degli ice to mesmerize di charlotte tilbury anche questa scelta sono sicura che non stupirà nessuno io sono una fan sfegatata degli ice to mesmerize ne ho un sacco ne ho veramente diversi praticamente tutte le colorazioni che mi piacciono le ho comprate nel corso del tempo il colore che ho qui da farvi vedere è il colore amber gold che prima del insomma di un piccolo restyling che c'è stato nei nomi dei prodotti charlotte tilbury si chiamava bette la colorazione è rimasta la stessa è cambiato solo il nome è il primo che ho acquistato e rimane tuttora il mio preferito nonostante sono anche gli altri mi piacciono moltissimo guardate che bello vedete che è come se fosse una sorta di oro antico di bronzo antico non è giallo non è troppo caldo è proprio un bronzo secondo me perfetto quella bronzatura senza bronzatura per i sottotoni caldi sottotoni freddi lui è perfetto gli ombretti di charlotte tilbury hanno una texture in mousse che è molto soffice quando lo andate a toccare con il dito lo andate a prelevare e una volta che lo passate sulla pelle lo fate scorrere sulla pelle è una sorta di gel crema è molto scorrevole molto sottile vi lascio anche un leggero effetto fresco bagnato quando il prodotto tocca la pelle si sfumano benissimo con le dita oppure con un qualsiasi pennello sia setole naturali sia setole sintetiche non fa nessuna differenza si sentono sulla palpebra quando si asciugano vi danno qualche secondo per lavorarli ovviamente sono molto morbidi sono facili da lavorare ma poi si settano e non si muovono più come dico sempre mi è capitato di sentire qualcuno che si lamentasse della tenuta di questi ombretti se lamentasse del fatto che il colore andasse nelle pieghe io non ho mai avuto questo tipo di problema quindi non posso che parlarvi bene di questi ombretti utilizzo un altro pennello di real technique della linea bold metal prelevo il prodotto mi raccomando non dovete prelevarne troppo perché è un prodotto che come dicevo prima scorre molto sulla pelle quindi non serve prelevarne tanto meglio partire con una base leggera eventualmente intensificare un po il colore questo è un ombretto sicuramente dal tono caldo è un altro bronzo oro antico caldo non è eccessivamente caldo da sforare nell'arancione nei toni aranciati da dire dovete avere un colorito ambrato molto caldo oppure un velo di abbronzatura altrimenti non vi sta non vi sta bene ecco come potete vedere è un ombretto ricchissimo di riflessi ci sono un sacco di riflessi non è un ombretto glitterato ma un ombretto metallizzato molto molto bello che però secondo me sta bene anche sulle palpebre un pochettino più mature se andate a intensificare il colore io ne sto mettendo veramente poco alla volta e a stratificare l'ombretto vi rendete conto che il colore diventa sempre più pieno sempre più coprente quando rimane in realtà un pochettino più trasparente se applichiamo un velo molto leggero ecco il pigmento lo possiamo costruire fin quanto piace a noi mi piace veramente da matti lo uso tantissimo tutto l'anno di più d'estate devo dire la verità però trovo che sia veramente un ombretto molto molto bello il modo in cui la luce lo colpisce colpisce la formula che sembra quasi avere una patina glossy una patina bagnata sopra se intensificato il prodotto secondo me lo rende veramente stupendo e capace anche di darvi un look quasi editoriale nonostante magari appicchiate soltanto lui ecco adesso vado ad applicarlo anche dall'altra parte devo dire che a me piace sempre tantissimo questo ombretto per me è uno dei prodotti migliori di tutto il brand sherlock tv uno di quelli che vi consiglierei tra tra i miei dieci preferiti per iniziare ad acquistare qualche prodotto se mi seguite da un po di tempo sono sicura che non vi stupirà di certo sentirmi menzionare questo ombretto in stick si tratta di un ombretto by terry ed è un ombra black star nella tonalità bronze moon io sono pazza pazza per questi ombretti li ho scoperti ormai diversi anni fa e ne sono stata letteralmente innamorata dal primo momento bronze moon è un bronzo spettacolare io ho terminato due stick di questo ombretto questo è il mio terzo per farvi capire quanto mi piace quanto sia facile veloce da utilizzare ma allo stesso tempo nonostante sia un ombretto solo non sia assolutamente una tonalità banale gli ombra black star di by terry sono i classici i matitoni in stick con il packaging che si gira e la mina spessa che che fuoriesce questo è un bronzo spettacolare per tutte le carnagioni per tutte le stagioni lui in matitone non è molto facile da farvi vedere ma questa è la tonalità e questo è anche quanto mi è rimasto lo sto terminando di nuovo per l'ennesima volta questo è proprio un bronzo neutro non è un bronzo che vira verso il freddo il grigio il tortora non è un bronzo che vira verso l'oro che vira verso il rame che vira verso l'arancio è proprio un bronzo neutro al suo interno ci sono sia riflessi argentati che riflessi dorati che aiutano proprio a compensare le due i due sottotoni e renderlo un colore adatto a un sacco di incarnati diversi facilissimo veloce da applicare io faccio semplicemente così posso il prodotto sulla palpebra in questo modo poi prendo il pennello e vado a lavorarlo e io come ho fatto prima vado semplicemente a sfumare il colore questa è una di quelle tonalità che una volta che iniziate a lavorarle prendono nelle varie zone dell'occhio sfaccettature diverse e sembra quasi che abbiate applicato diversi colori e le abbiate sfumati assieme quando in realtà è uno soltanto vedete qui lungo le ciglia dove chiaramente sfumo di meno è un pochettino più scuro mentre sulla zona della piega è più luminoso è un ombretto con una capacità incredibile di riflettere la luce e sembra quasi che abbiate un look bagnato quando la luce colpisce l'occhio nel nel modo giusto questo è un ombretto che a me piace veramente veramente da matti è un pochettino più scuro rispetto a bette di charlotte ilburi che abbiamo visto poco fa e da un look secondo me è un pochettino più intenso e forse mi piace di più utilizzato la sera che che non durante il giorno però è ugualmente un colore spettacolare un colore molto complesso bellissimo forse ho esagerato un po oscurito un po troppo l'angolo interno mi sono lasciata un po portare dalla sfumatura però mi piace veramente da matti anche qui di nuovo si tratta di prodotti che ho in diverse varianti colore o bronze moon o brown perfection che è un bel marrone cioccolato che purtroppo non esiste più o misti rock che è un tortora leggermente violaceo pazzesco o anche due tonalità uscite in edizione limitata dove sono per l'estate scorsa che sono sanni flash e immaculate light avevo anche un bright forecast che era un bel verde bottiglia che non so che fine abbia fatto non capisco se l'ho dato via oppure se me lo sono persa però insomma sono formule che io conosco molto bene mi piacciono da matti e ne ho collezionati tanti nel corso degli anni c'è un motivo per ultimi ho lasciato gli ombretti quelli un pochettino più particolare un pochettino più scoppiettanti diciamo così il primo è uno degli scatari di light glitter eye shadow di hourglass la tonalità è rei e di nuovo ragazzi si tratta di un color bronzo anche qui però si tratta di un bronzo neutro che fila leggermente verso il freddo grazie proprio a tutte le particelle riflettenti sui toni dell'argento che sono contenute qui dentro ce ne sono anche di dorate per compensare un pochettino però la principalmente diciamo che il sottotono è neutro freddo nonostante questo mi piace da matti ve lo faccio vedere da vicino perché merita sicuramente vedete che è un bel bronzo freddo non è un bronzo caldo pieno di riflessi sembra quasi un prodotto in crema ma non lo è gli scatelli the light di hourglass solitamente sono contenuti in un packaging più grande rispetto a questo io ce l'ho più piccolino e con il tappo argento invece che oro semplicemente perché lui era parte di un set natalizio che aveva acquistato un paio di anni fa quindi per quello lo vedete con un packaging diversi differente ma il prodotto è sempre lo stesso e rei è una tonalità presente in gamma permanente assieme a un sacco di altre tonalità splendide ne ho altre due perché vi dicevo si trattava di un set non ne ho acquistati altri però mi piacerebbe molto allora gli scatelli the light di hourglass sono degli ombretti dalla formula sicuramente in polvere perché vedete proprio che ci sono delle piccole particelle di polvere ai lati del barattolino ma si tratta di quella polvere che al contatto diventa quasi crema perché sono talmente prestati talmente burrosi e scorrevoli nella formula da sembrare quasi dei prodotti in crema il modo migliore per applicarli secondo me è utilizzare le dita perché avendo i glitter al loro interno se utilizzassimo un pennello rischieremo di lanciare glitter a destra e sinistra di farli cadere poi sulla sulla vostra guancia questo è un ombretto perfetto ve lo faccio vedere in azione prendo un pezzo di cotone che appoggio sotto l'occhio per evitare di far cadere glitter questo è un colore perfetto da applicare da solo vedete basta tamponarlo così con il dito da applicare da solo per un effetto scenico oppure da sovrapporre ad altri ombretti che siano in polvere che siano in crema quello che preferite voi che siano tono su tono che siano contrasto lo potete agevolmente picchiettare io non consiglio di trascinarlo ma di picchiettarlo in questo modo riuscite sia a sfumare il prodotto che a depositarlo e il risultato è quello di una palpebra vestita di luce di gloss praticamente è come se fosse un gloss per le vostre palpebre guardate che meraviglia se volessi stratificare il prodotto per dare un effetto colore più pieno lo potrei fare benissimo da quello che facciamo in questo momento vedete come il colore un po la volta si si intensifica sono intensificato un pochettino di più all'angolo esterno dando questo leggero effetto gradiente guardate che meraviglia io lo trovo pazzesco uno di quegli ombretti veramente che da sole vi fanno look e mi fanno anche un look spettacolare non è un ombretto da giorno almeno per i miei gusti poi se a voi piacendo stare glitter tutti i giorni ma ci mancherebbe altro quando avete finito di passare l'ombretto sulla palpe però guardate che bello io lo trovo spettacolare comunque un po di una passata con il pennello ci ci serve questo al 224 di mac lo uso sempre tenendo al sicuro il resto del mio viso lo uso per andare a sfumare leggermente i contorni soltanto a lungo i contorni per non andare a far perdere l'intensità lungo la palpebra guardate che meraviglia per me è un ombretto spettacolare potete usarlo su tutto l'occhio così oppure se decidete di sovrapporlo ad altri ombretti anche soltanto al centro della palpebra per dare un tocco di luce stupendo l'ultimo ombretto che ho da farvi vedere secondo me lo conoscono in pochi ed è un ombretto della linea chrome paint di tart nella tonalità park avenue princess si tratta di un altro ombretto simile nel concept a quello di hourglass perché è un ombretto in polvere super mega pressata con il barattolino in vetro e lo stoppino diciamo che tiene tutto che tiene tutto giù che evita che il prodotto si rompa si disperda il colore è questo bellissimo oro giallo pieno caldo stupendo anche qui si tratta di metallo colato praticamente di nuovo si tratta di un ombretto che secondo me è meglio prelevare con il dito potete sfumarlo con è una cosa incredibile questa è polvere ma diventa crema al contatto con il dito questo è un ombretto pazzesco sembra davvero metallo a una grana un po spessa vedete perché ha un sacco di particelle metalliche al suo interno come se avesse dei piccoli pezzettini impercettibili di foglia oro per capirci ma è stupendo allora anche lui un ombretto da applicare proteggendo proteggendo il viso fate utilizzo sempre lo stesso cotone di prima e vado a picchietta guardate che roba guardate ho appena toccato la palpebra questo è il colore guardate che meraviglia ovviamente sono depositato non l'ho ancora sfumato adesso andiamo a sfumarlo assieme questo è un ombretto che spero che riusciate a vedere che quando iniziate a sfumarlo inizia a prendere delle sfumature diverse vedete che prende quasi una sfumatura rossastra aranciata che fa sembrare che io abbia applicato di nuovo più ombretti di quanti invece non abbia applicato in realtà è soltanto uno anche questo è un ombretto che contiene glitter contiene particelle non vedete il glitter visibile come nell'ombretto di hourglass perché lui è molto più è un glitter molto più delicato che si fonde con il pigmento che si fonde con le particelle dorate però è un glitter che c'è adesso io ho applicato in modo molto generoso mi sono ampliato molto per farvi vedere il colore è stupendo vedete che qui verso l'interno verso l'esterno lungo la piega c'è questo leggero alone aranciato che fa sembrare che aveva utilizzato più più ombretti diversi questa tonalità è una tonalità molto calda molto gialla che secondo me sta bene quando avete un filo di abbronzatura guardate che roba guardate che roba sta bene se avete un filo di abbronzatura sta bene se avete un sottotono caldo se avete un sottotono freddo secondo me non sta bene perché cozza proprio quindi non è un ombretto insomma che si usa tutte le stagioni a me piace utilizzarlo durante l'estate più che durante l'inverno e questo è il risultato finale anche lui non ho sfumato non ho fatto un gran lavoro di sfumatura è applicato abbastanza alla buona però guardate che bello il colore guardate che meraviglia anche qua abbiamo una complessità di riflessi veramente incredibile chiaramente questi ultimi due il tarte laura glass sono ombretti un pochettino più particolare insomma sono ombretti o da sera oppure da trucco importante da trucco scenografico dipende un po da quelli che sono i vostri gusti insomma le vostre abitudini ragazzi questo è quanto spero che il video vi sia piaciuto io sono piena di ombretti di glitter dappertutto fatto un disastro adesso devo pulire pulire tutto se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare qua sotto un bel pollicione e non dimenticate che qui sotto nell'info box potete lasciarmi un commento con qualsiasi impressione suggerimento richiesto tutto ciò che volete rispondo a tutti non volentieri di più se ancora non l'avete fatto non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando su questo bottone con la mia faccia io vi mando un bacione grande noi ci vediamo prestissimo giovedì mattina con un nuovo video ciao